Parliamo anche con Gabriele Montaperto di questa partita, allora Gabriele la solita partita del Pergo si può dire così? Sì, diciamo che loro sapevamo che squadra erano, era una squadra comunque che si chiudeva dietro e cercava di farci male nelle ripartenze, avevano due giocatori in attacco forti, valente e anche Cesana il giovane e diciamo che comunque il risultato secondo me è anche giusto, lo 0-0. Però insomma il più giovane e forte in campo era il portiere del Pergo? No, il più forte. Anche perché parliamo della tua ennesima convocazione con la Juniors per questa settimana, la selezione Juniors. Sì, sono convocato anche domani a Interello, facciamo una micchiore con la primavera dell'Inter e sono contento e oggi volevamo la vittoria qui a Karate ma non ce l'abbiamo. fatto, non ci siamo riusciti. Secondo te quali sono i motivi, soprattutto chiedo anche a te, motivi di tanto possesso palla, poche occasioni da gol e forse anche qualche errore di troppo dietro? Di sicuro secondo me anche un po' di stanchezza, soprattutto nel secondo tempo, mentre un primo tempo comunque secondo me è giocato abbastanza bene, però poche occasioni, vero? Siamo poco concreti davanti e dietro sì abbiamo fatto qualche errore, però alla fine è andato abbastanza bene. Per te che arrivi, che stai dimostrando partita dopo partita di fare una grande stagione, cosa c'è nei tuoi sogni per la prossima stagione? Io ovviamente spero il meglio, però prima di tutto penso a finire al meglio la stagione e poi per l'anno prossimo si vedrà, non mi pongo dagli obiettivi, penso a far bene giorno dopo giorno.